Avevano rubato furgoni e carroattrezzi nell'Aretino e in tutta la Toscana. I carabinieri si erano messi sulle loro tracce e dal Valderno sono arrivati sino alla Sicilia, sgominando così la banda che aveva colpito ad inizio 2022. Tutto infatti era cominciato a metà febbraio, quando in pochi giorni in provincia di Arezzo era stata denunciata la razzia di alcuni furgoni e carroattrezzi oltre al tentato furto di un altro mezzo. I militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Giovanni Valderno in breve tempo hanno scoperto che la banda in azione arrivava dal sud Italia. Da quell'elemento sono poi scattati sopra luoghi, analisi dei filmati, della videosorveglianza e delle targhe che avevano ripreso oltre all'ascolto di testimoni. La svolta è arrivata quando è stata individuata l'auto utilizzata dai malviventi per recarsi sui luoghi dei colpi. Gli accertamenti hanno così portato gli investigatori in provincia di Palermo. Da qui la banda si muoveva, a volte in traghetto, altre volte risalendo tutta l'Italia in macchina. Le indagini successive hanno poi consentito di arricchire il quadro indiziario anche su svariati altri colpi, tutti accomunati dallo stesso modus operandi. Nei giorni scorsi i carabinieri valdarnesi, così certi della presenza della banda in Toscana, hanno monitorato i componenti a distanza per poi intervenire al porto di Livorno, dove sono riusciti a bloccarne due entrambi palermitani di 30 e 40 anni. Un terzo è invece riuscito a fuggire. Si stavano imbarcando per rientrare in Sicilia, non prima però di aver caricato due furgoni e due carattrezzi rubati. I mezzi, muniti di targhe centraline e carta di circolazione per nascondere che erano provento di un furto, sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Gli accertamenti dei militari, infine, hanno portato anche ad individuare il presunto basista, un aretino da tempo residente in Sicilia. Una volta ottenuto un decreto di perquisizione della procura, i carabinieri sono volati a Palermo, dove hanno trovato una vasta gamma di attrezzi per aprire ed avviare motori di mezzi rubati. È stato anche rinvenuto un ulteriore veicolo rubato sempre nell'aretino. L'uomo è stato così denunciato per ricettazione.